Sono tutte armi utili da utilizzare, anche perché i tempi di produzione di questi vaccini che lei ha citato sono diversi, ad esempio la produzione del vaccino ad RNA che sono due, quelli nuovi di cui si sta parlando in questi giorni, hanno una produttività maggiore, hanno anche un livello di sicurezza molto elevato, però stiamo parlando, dobbiamo stare attenti, di una sicurezza nel breve termine, nel senso sappiamo che la sintomatologia, cioè gli effetti collaterali, sono tal quali a quelli di un vaccino antinfluenzale, ma non sappiamo gli effetti collaterali che possono avere nel medio e nel lungo termine, Questo purtroppo non ci è dato sapere perché appunto sono vaccini nuovi, ma anche il virus è nuovo, quindi anche la stessa infezione non sappiamo cosa possa causare nel lungo termine, anche nei pazienti guariti non sappiamo a livello cicatriziale nei polmoni se questo può implicare qualche cosa, se ci possono essere delle sequele, cioè dei danni d'organo nel tempo, quindi è tutto da studiare, quindi c'è da mettere in campo tutte le armi, gli anticorpi monoclonali sono sicuramente dei farmaci che vanno messi in campo come gli antivirali, credo molto di più agli anticorpi monoclonali rispetto agli antimirali e i vaccini ben vengono tutti gli approcci possibili, certo questi due vaccini ad RNA hanno aperto una nuova era perché mai prima d'ora si era fatto un vaccino ad RNA, quindi è una grande scoperta. Grande scoperta, ci spiegavano altri specialisti come lei che si va verso territori inesplorati anche per altri tipi di malattie. Senta, le chiedo questo, quando ci dicono queste grandi case farmaceutiche in ballo, il 90% funziona, funziona al 94%, il virus anti-influenzale per esempio, che efficacia ha, a che percentuale si ferma? Tra il 60% e il 70%, quindi questo risultato era del tutto inaspettato, persino Anthony Fauci qualche mese fa a maggio diceva sarei molto felice e fiero se arrivassimo al 75%, quindi siamo arrivati intorno al 90%, addirittura al 94,5% con l'ultimo vaccino di oggi, di ieri e quindi il risultato è eccezionale. Dobbiamo ora lavorare molto sulla sicurezza.